Benvenuti sul mio canale dove ripercorriamo la biografia dei personaggi più discussi del momento Io sono Filippo e oggi vi racconterò dello youtuber, idolo dei ragazzini, cuoco appassionato, autore di piatti leggendari, laudi e corrotti Con 3 milioni e mezzo di iscritti, 1 milione e mezzo di follower e oltre 7000 video pubblicati su youtube Abbiamo tantissime cose di cui parlare, quindi mettetevi comodi per ascoltare la vera storia di Mirko Alessandrini in arte ciccio gamer Mirko Alessandrini nasce a Roma il 27 gennaio 1989 dal papa Marco e dalla mamma Carmela Ha anche un fratello di nome Simone che è nato due anni dopo di lui nel 1991 Simone è parte essenziale di questa biografia perché i fratelli Alessandrini sono molto legati e condividono le stesse passioni Purtroppo non sappiamo molto dell'infanzia di Mirko o del perché il papà sia stato un genitore assente Quello che possiamo dare per certo però è che la sua infanzia così come la sua adolescenza non siano state proprio belle belle Mirko infatti negli anni dell'adolescenza viene preso di mira dai suoi coitanei anche per il suo peso Oltre al bullismo e all'obesità Mirko si scontra anche con i problemi economici della famiglia Per tutti questi motivi gli adolescenti Mirko e Simone si isolano Si chiudono in un mondo in cui possono essere chi vogliono e in cui i nemici sono più facili da sconfiggere Rispetto a quelli contro cui si scontrano ogni giorno I videogame Mirko e Simone hanno una passione per i videogame Che però diventa ben presto un'ossessione Ci giocano ogni giorno e per 10-12 ore al giorno Certe volte anche la notte In realtà alla fine degli anni 90 prime del 2000 non è una cosa rara Forse non lo è tuttora ma a fine degli anni 90 prime del 2000 ci giocano letteralmente tutti Persino il piccolo biografo in quegli anni giocava a Crash Bandicoot Eppure oggi è povero Infatti la grande domanda che qua tutti ci stiamo facendo è Cosa ha reso Mirko diverso da tutti noi altri ragazzini che passavamo le giornate a giocare a videogame? Ora ci arriviamo Andiamo per ordine perché in questa biografia è importante proseguire per gradi Dicevamo che Mirko da adolescente si scontra coi problemi economici della famiglia Mirko si iscrive all'istituto professionale alberghiero A lui piace cucinare ma purtroppo dopo qualche anno si ritrova ad abbandonare gli studi Perché a soli i 17 anni inizia a fare qualsiasi lavoro pur di portare soldi a casa In realtà abbandona la scuola così presto anche perché i compagni come vi dicevo Lo prendono di mira e non riesce a integrarsi a causa del bullismo che subisce Mirko la scuola la vive male e così non appena compie 18 anni decide che non ne può più Andarci è praticamente solo una sofferenza Tra l'altro apro una breve parentesi perché negli stessi anni anche io ho frequentato l'alberghiero E so esattamente cosa intende Mirko quando dice che ritirarsi da scuola sia stato come togliersi un enorme peso di dosso Non nel senso di studiare capiamoci ma nel rapporto con i compagni perché dovete sapere che all'alberghiero con i compagni di classe si cucina E la cucina è un campo di battaglia c'è una competitività che Masterchef in confronto è un percorso benessere Nei miei ricordi c'è il caos tipo mi ricordo quando a scuola dovevamo fare qualche ricetta e qualche burlone di un'altra classe Perché sì nella stessa cucina possono esserci contemporaneamente anche due classi per rendere tutto più esaltante Ecco qualche simpaticone appena ti distrevi un attimo ti rovinava la salsa che stavi preparando buttandoci dentro un pugno di sale Praticamente ti dovevi guardare la pentola manco fosse il bicchiere in discoteca E nel migliore dei casi ti accorgevi del danno prima di far assaggiare la salsa al professore Una volta mio compagno ha iniziato a prendere a pugno il muro in preda a una crisi di nervi Mentre nel frattempo gli altri ridevano di lui e un altro lo prendeva a colpi di torcione arrotolato sulla gamba Io ho fatto qualcosa per fermarli? No Mi sento una merda oggi per questo? Sì Era più difficile sopravvivere che essere promossi? Sì Chiusa parentesi andiamo avanti Ma quindi quali sono questi lavori che fa Mirko? Mirko fa il benzinaio, il panettiere di notte, le pulizie nelle scuole Tutti i lavori che improvvisa per necessità di forza maggiore Che svolge con grande entusiasmo anche se non lo rendono felice Un bel giorno Mirko si iscrive in palestra Ma non ci va come ho sempre fatto anch'io Grande Mirko sei tutti noi E scopre che proprio dove si trova la palestra c'è un negozio di informatica Uno di quei negozietti dove si va a fare la cosiddetta modifica alla console Per poterla usare con i giochi masterizzati E dove si assemblano i computer fissi Vi ricordate? Non so neanche se ne esistono ancora Insomma Mirko si innamora di questo posto e fondamentalmente ci passa le giornate Tanto che il proprietario un giorno gli propone di lavorare lì per lui Mirko entusiasta di questa proposta In fondo ci sperava Accetta subito ed è talmente tanta voglia di fare Di dimostrare il suo valore Che affronta il lavoro come fosse una sfida Vi faccio un esempio Se la mattina il titolare porta 30 console da modificare Lui per sera gliele fa trovare tutte pronte Così da poterlo sbalordire Ma se al lavoro arriva qualche piccola soddisfazione A casa mamma Carmela Ha difficoltà pure a fare la spesa Tanto che spesso è costretta a farsi aiutare dalla Caritas per mangiare Mirko matura presto in fretta La necessità di portare soldi a casa diventa un obiettivo primario A casa ci sono delle bollette della luce arretrate da pagare E quando a Mirko arriva il suo primo stipendio Che è di 1700 euro Mirko porta questi soldi a casa E li usa per fare la spesa e per pagare le bollette In questo lavoro Mirko mette tanta passione, dedizione e impegno Lavora in questo negozio di informatica per due anni Durante i quali impara ad assemblare, modificare e riparare console e pc Dopo aver abbandonato gli studi Mirko inizialmente si sente leggero Per il fatto di non andare più a scuola Ma ben presto cade dentro il vortice della depressione Si chiude in se stesso allontanando tutti E le uniche cose che fa sono mangiare e giocare Non esiste nient'altro per lui Gioca ai videogame e mangia Mangia e gioca ai videogame E tra una cosa e l'altra ha gli attacchi di panico Mamma Carmela a un certo punto si accorge che Mirko sta male E insieme vanno dal medico di famiglia il quale dopo averlo ascoltato per due ore Gli consiglia di farsi seguire da una psicologa e gliene consiglia una in particolare di nome Francesca C'è un piccolo problemino Costa 50 euro a seduta e non possono permetterselo Impossibile quindi farsi aiutare per questa via Carmela e Mirko vanno allora in ospedale Confidando nella sanità pubblica Ma scoprono che la struttura non ha a disposizione psicologi Se non altro però c'è uno psichiatra Che prescrive a Mirko dei farmaci calmanti Mirko non potendosi permettere la psicoterapia Non ha alternative Confida nel parere medico e inizia a prendere l'oxanax A un certo punto la nonna di Mirko si accorge che sua nipote abbia bisogno di aiuto psicologico E così decide di pagargliela lei la terapia E sarà grazie a questo percorso che Mirko inizierà gradualmente a riprendersi Ma andiamo per ordine Mirko dal 2008 al 2012 gioca online e lo fa col nome Darkwolf Insieme a suo fratello Simone e un ragazzo di Napoli di nome Riccardo Formano un gruppo gioco chiamato Clan MVP E sono fortissimi Fondamentalmente vincono sempre Il Clan MVP partecipa a diverse competizioni online Giocando a Gear of War Sono talmente forti che in questi tornei online vincono per 150 volte consecutive Tanto che non passano inosservati E un giorno Mirko e Simone vengono intervistati come più forti gamer italiani Mirko nel 2012 apre un canale su YouTube dal nome MVP Official Team Questo canale lo usano lui e gli altri due compari per caricare su YouTube i gameplay delle partite di Gear of War Mirko carica su YouTube le registrazioni delle partite solo per poterle rivedere e vantarsene Tuttavia queste registrazioni attirano dei veri spettatori Ma perché vi domanderete voi? Mi garantite che ce lo siamo domandati tutti almeno una volta? Perché qualcuno dovrebbe guardare qualcun altro giocare? Io mi ricordo che si arrivava addirittura a litigare per giocare Mica per guardare Sarà successo a tutti di avere solo due joystick e di essere in tre Io non ho mai visto nessuno dire No no giocate voi che a me piace guardare Fa strano Infatti per me è un mistero Io questa perversione me la sono spiegata in vari modi E ve ne voglio dire alcuni Così mi scrivete nei commenti cosa ne pensate voi Di questo strano fenomeno sociale Del divertirsi guardando altri giocare Come prima cosa ho pensato che magari si è interessati al funzionamento del gioco Prima di comprarlo E che per questo motivo si possa trovare interessante guardare qualcuno giocarci prima di comprarlo Poi ho pensato che non può essere questo Perché chi lo segue guarda tutte le partite Quando secondo questa prima ipotesi Una volta comprato il gioco Lo spettatore avrebbe dovuto smettere di guardare i video e giocare in prima persona Poi ho pensato che magari la simpatia di Mirko Rendesse fruibili le registrazioni delle partite Come forma di intrattenimento Che le partite fossero un pretesto per fare due chiacchiere Ma anche questa ipotesi non regge Perché nei primi video non si vedeva nessuno C'era solo la registrazione della schermata gioco Poi però ho pensato che i videogiochi uniscono i ragazzini In modi del tutto incomprensibili dall'esterno Rendendoli parte integrante di un universo tutto loro Ad unirli anche il linguaggio che usano Che deriva da giochi e trame che solo loro conoscono Ecco perché secondo me i gamer in generale hanno ottenuto così tanto seguito Perché chi non li segue è fuori dal gruppo di gioco Non ne conosce le battute Magari sarà una spiegazione parziale Ma io credo che il successo di questo genere di canali di intrattenimento Risieda appunto nel fare da collante tra altri gruppi di amici E quindi viva i gamer che fanno da collante In questo mondo che ci vuole divisi Io ad esempio che sono sempre stato fuori da questo mondo virtuale Mi ritrovo un fratello che ogni tanto mi insulta dandomi del nabbo Che vuol dire nabbo, vuol dire dilettante in senso dispregiativo Insomma Mirko carica le partite su YouTube per il prestigio della squadra gioco Soprattutto quando vincono pubblica la sconfitta della squadra avversaria Giocano a Call of Duty, a Blur E un giorno il canale raggiunge i 1000 iscritti 1000 iscritti sono un traguardo importante Perché puoi iniziare a monetizzare Vuol dire che il canale funziona, che il canale piace Purtroppo però l'entusiasmo ben presto finisce Perché il canale viene chiuso Ora, Mirko non ha mai rivelato il perché apertamente Anche se ha lasciato intuire che ci siano stati degli screzi con un altro giocatore del clan In questo momento dunque Mirko non ha più un canale YouTube E passa giornate intere a pensare se aprirne uno tutto suo o meno Mirko è pieno di dubbi Riuscirò a portare nuovi contenuti Sarò in grado di gestire il pubblico da solo Ma domanda più difficile di tutte Come mi chiamerò? È l'estate del 2012 Su YouTube, ma ancor più tra i gamer Tutti hanno uno pseudonimo E durante un pranzo domenicale in famiglia Mirko chiede al suo fratello Simone Che ne pensi del nome CiccioGamer89? E lui, come ogni fratello che si rispetti Si dimostra di grande aiuto E interessatissimo Risponde Solo dici te Sottintendendo Ma fai un po' come ti pare E non mi rompere Che c'è il salame al cioccolato Giuro che stavano mangiando il salame al cioccolato Io non ne sapevo neanche l'esistenza Inizialmente ho pensato fosse proprio il salame con dentro il cioccolato Per fortuna mi sbagliavo Ha solo la forma del salame Cioè è cioccolato a forma di salame E se qualcuno volesse provare a farlo Vi lascio la ricetta tra i link giù in descrizione Ma perché proprio CiccioGamer89? Praticamente perché racchiude alcuni dati rappresentativi di Mirko Cioè Ciccio, riferimento alla corporatura Gamer, per quello che fa, è 89 Perché è nato in quell'anno Quindi con lo pseudonimo CiccioGamer89 Mirko apre il suo primo canale YouTube Canale che diventa sin da subito per lui un posto in cui rifugiarsi Per evadere dalla realtà La sua valvola di sfogo per divertirsi Un luogo dove poter stare per una volta senza pensieri A differenza di quando caricava i gameplay con il nickname Dark Wolf Questa volta Mirko, ormai divenuto CiccioGamer89 Sa di rivolgersi a un pubblico, crea contenuti per loro Studia ciò che al pubblico piace Analizza visualizzazioni e il numero di mi piace Così da creare contenuti che piacciono a quante più persone possibili Si inventa una mascotte, simbolo del canale E dei suoi fan, che è il paguro Per chi come me non ha idea di cosa sia un paguro Sappiate che è un crostaceo, tipo la ragosta Però con la particolarità di vivere attaccato a una conchiglia In stile lumaca Solo che a differenza della lumaca Il paguro non è in grado di farsi da solo questa conchiglia In compenso è in grado di usare conchiglie vuote per proteggersi Che sostituisce man mano che va crescendo Per Mirko il paguro è il simbolo che meglio lo raffigura Per la sua corazza Per la capacità di resistere e di cambiare armatura Così da potersi difendere dalle avversità e dai nemici Un giorno un suo fan consiglia a Mirko di aprire i video con un saluto personalizzato Per distinguersi da tutti gli altri Questo perché in quel periodo spopolava il saluto di Favij Bella a tutti ragazzi! Il saluto che usa CiccioGamer in apertura di ogni video è Akuna Matata ragazzi Che vuol dire senza pensieri Ed è manco a dirlo una citazione tratta dal film d'animazione Il Re Leone In questa prima fase su Youtube CiccioGamer89 Carica anche video in cui su Chat Roulette Si diverte insieme a suo fratello Ambrogio Che in realtà si chiama Simone Sono accorto di non essere stato chiaro su questa cosa di Ambrogio Praticamente all'inizio quando giravano i video insieme CiccioGamer scherzava chiamando suo fratello Ambrogio E questa cosa insomma aveva un po' confuso Gli utenti che avevano creduto si chiamasse Ambrogio Akuna Matata ragazzi ben ritrovati dal posto CiccioGamer89 Quest'oggi siamo con Ambrogio Ciao ragazzi Su fratello Simone tra l'altro dal 2013 Ha aperto anche lui un canale su Youtube Dal nome Joker con al posto della E il numero 3 Dicevo che non carica solo video di gameplay Ma anche challenge, video reaction su Chat Roulette Per chi non sapesse cosa sia Chat Roulette Praticamente è una video chat dove è possibile incontrare gente a caso Ed è possibile cambiare interlocutore in qualsiasi momento CiccioGioker e altri amici con i loro rispettivi canali Youtube Goliardicamente prendono in giro i ragazzi E dicono a tutte le ragazze la stessa cosa Show de capezzolo Intendendo di alzare la maglietta Show de capezzolo Show de capezzolo Show de capezzolo A parte questa cosa Che oggi suona infelice Ma che al pubblico di 10 anni fa divertiva Insieme a suo fratello Ciccio Fa un sacco di challenge E video divertenti Ma la cosa veramente incredibile E di Mirko è la costanza Allora vi rendo subito l'idea CiccioGamer inizia nel 2012 E siamo nel 2022 Quindi sono facile facile 10 anni Che è su Youtube 10 anni sono 3650 giorni E sul canale di Ciccio risultano circa 7500 video Ciò può significare solo una cosa Ha pubblicato mediamente due video al giorno Ora al di là della qualità e del contenuto Che spesso si limita al gameplay E a fare video vlog Al di là di questo L'impegno che ci vuole per mantenere questo ritmo Non è indifferente È folle Non vi ho detto che Mirko in tutto ciò È fidanzato con una ragazza Perché non ve l'ho detto Perché di questa ragazza Sappiamo solo come si chiami E cioè Patrizia Anche se in realtà Si chiama così Io neanche ci provo a pronunciarlo Data la mia risaputa incapacità Ci provo solo una volta per voi Patrizia Isabella Leschitzkin La storia d'amore tra Mirko e Patrizia Inizia all'incirca nel 2012 E finisce 6 anni dopo nel 2018 Della coppia si sa poco e niente Non sappiamo come si siano conosciuti O il perché si siano lasciati Le uniche informazioni pubbliche che abbiamo Sono queste Fidanzati per 6 anni Durante i quali Patrizia è apparsa in tantissimi video E poi basta Pare però che fosse una storia tendente al matrimonio Lì lì quasi a pensare a dei piccini gamer Ma ad un certo punto La misura è colma Diremmo se fossimo a Temptation Island Qualcosa si è rotto E i due hanno messo un punto Alla loro relazione Ma facciamo un passo indietro E torniamo a quando nel 2013 CiccioGamer89 Arriva al traguardo Dei 1000 iscritti al canale Mirko fa tutta la procedura Per iniziare a monetizzare E dopo un mese Gli arriva il primo stipendio In tutta la sua bellezza Ammonta addirittura A 35 euro Mirko corre da sua madre Per farle vedere Che ha fatto 35 euro Con Youtube Mirko è felice 35 euro Non sono lo stipendio ora E non lo erano neanche nel 2013 Ma sono il simbolo Di un inizio Non so se avete presente Quando si pianta un semino E spuntano le prime due foglioline Non sono niente Ma allo stesso tempo Sono l'albero Che avete in mente E sapete una cosa? Sua madre lo incoraggia Avrebbe potuto dirgli Batavaglia Avrebbe potuto fare la faccia Di chi ti compatisce Come fossi un povero illuso Che in verità Sta sprecando il suo tempo Invece era felice Di vederlo felice Di incoraggiarlo A fare qualcosa Che poteva durare Anche un giorno O tutta la vita Che importa Nello stesso anno Sempre nel 2013 Mirko si sottopone A un intervento Per risolvere Un doloroso Fastidio intimo Alle ragadi Parlare di queste cose È imbarazzante Per chiunque Ma per non lasciare I fan senza video E per non preoccuparli A causa Dell'assenza Di ciccio Interviene Simone Che nel suo canale Joker Racconta Il perché Dell'assenza di ciccio Tranquillizza i suoi fan Dicendo che non è nulla di grave Anche se sicuramente Il problema di ciccio È fastidioso Tra l'altro Se vi ricordate È in questo periodo Che per Mirko Era iniziata La depressione brutta Quindi volendo Le ragadi Erano la cosa Meno spiacevole per lui Arriviamo così Alla fine del 2015 Precisamente Dal 23 dicembre Al 4 gennaio Per Mirko Sono anche questi Giorni tristemente dolorosi Perché Un altro fastidio intimo Lo costringe a operarsi Questa volta però Si opera per un ascesso Vicino l'ano Il Natale E il Capodanno Mirko li passa all'ospedale Dove il 31 dicembre A mezzanotte I medici Gli augurano Buon anno nuovo No In ospedale Mirko Riesce a trovare Molto tempo Da usare Per riflettere Sulla sua salute Sul corpo Sul suo futuro La notte di Capodanno Mentre tutti salutano Il 2015 Dando il benvenuto Al 2016 Mirko guarda i giochi d'artificio Attraverso la finestra Dal letto Dell'ospedale E probabilmente capisce Che è arrivato Il momento Di rimettersi In forma Nel 2016 Cicciogamer89 Viene invitato Per incontrare I suoi fan All'evento Che tutti I appassionati Di fumetti Videogame Cosplay Amano di più E cioè Il Comic Con Anche detto Comics Che a Roma Si chiama Romics Ora Immaginate Questo mega evento E cicciogamer La youtube star Del gaming italiano Con i suoi migliaia Di fan Mentre firma Autografi E si scatta I selfie Ad un tratto Dalla folla Oltre le transenne Un ragazzo Poco più che Diciottenne Magronino E svelto Si allunga Manco fosse Rabere Di One Piece E gli Cataschiaffa Un cornetto Con la nutella Sulla faccia Cicciogamer89 Si paralizza Per qualche secondo In verità Quello è il secondo Cornetto Che gli arriva In faccia Quel giorno Sempre da questo ragazzo Mirko dopo due secondi Di shock Prende il sopravvento Su Cicciogamer E inizia a urlare Prendetelo Prendetelo I suoi fan Paralizzati Non si spostano Di un passo Cicciogamer torna in sé Sa che ci sono Tanti suoi fan E non intende Farne un dramma E quindi anche se Il gesto Di violenza gratuita Lo ha ferito Continua la sua Giornata al Romics La sicurezza Riesce a recuperare Il ragazzo Che nella seconda Cataschiaffata Ha preso Ciccio Anche nell'occhio Facendogli male Insomma La sicurezza Lo prende E lo porta da Ciccio Ora Io non so il senso Di portarglielo Davanti A cosa servisse Fatto sta Che l'aggressore Una volta catturato Ritrovatosi davanti A Ciccio Si mette a piangere S'inghiozzando Ciccio lo perdona E decide anche Di non denunciarlo Nel 2016 Delly Mellov Che per chi Non lo conoscesse Ha un canale su Youtube Ormai da oltre 10 anni Dove parla di qualunque cosa Allora posso essere sincero Inizialmente ho pensato Poverino va E poi invece ho pensato Vabbè però Se ti comporti così Che ti aspetti Vi racconto Delly è una specie di provocatore E stando alla mia Personale intuizione Pensa che Una strategia Vincente Sia la provocazione Vi faccio qualche esempio Quando si rivolge al suo pubblico Li chiama Cagnacci Nelle informazioni La prima cosa che dice È Sono meglio di Montemagno Insomma Cosa altro dire Sicuramente È una persona particolare Ma cos'è successo Tra i due Delly Dopo aver criticato In più video Ciccio Gamer E averlo chiamato Frigno Gamer Arriva al punto In cui riesce a ottenere Tutta l'attenzione Che cercava Da Ciccio Quando pubblica Il video In cui lo chiama Gemmone E lo critica Per il suo modo di giocare Perché vende le gemme E quindi lo accusa Di guadagnare soldi Tipo in un certo senso Facendosi lidare dai bambini Insomma Insinua persino Che Ciccio Si faccia aiutare E che in realtà Non sia forte a giocare Come vuole far credere A questo punto Mirko fa mandare una lettera Dal suo avvocato A Delly Nella quale Lo denuncia per diffamazione E per aver divulgato La sua email Di gioco Nella quale Ha ricevuto una quantità Enorme di messaggi Che ovviamente Gli hanno creato un disagio E chiede quindi Mirko Di rimuovere immediatamente Il video E di pagare i 5.000 euro Per i danni subiti Delly che tra l'altro Studia giurisprudenza E si difende da solo Risponde che non ha problemi A rimuovere il video Se crea problemi A Ciccio Ma che non intende Pagare le 5.000 euro Per quanto riguarda L'email Invece Delly Si difende Dicendo che fosse Una mail pubblica E quindi Di non aver rivelato Dati sensibili Insomma Dopodiché Delly si propone Di rimuovere il video A patto però Che la cosa Si concluda Definitivamente L'avvocato di Ciccio Fa sapere a Delly Che se non rimuove Il video E paga il risarcimento D'anni Per ogni giorno In cui il video Rimarrà online Mirko vorrà 100 euro In più Al giorno Delly non fa niente Neanche rimuovere Il video Passa del tempo E Delly Mello Pensa Che Ciccio Ci abbia ripensato Anche perché Non ha avuto più Alcuna notizia Fino a quando Un giorno Non arriva a Delly Una lettera Del tribunale Di Teramo Che lo informa Che Ciccio Gamer Lo abbia denunciato Per estorsione Ma che il giudice Ha archiviato Il caso Perché non Sussiste Delly pubblica Un video in cui Spiega questa cosa Che vi ho appena raccontato E poco dopo Un altro video In cui mostra Il libro Autobiografia Di Ciccio Gamer Che ha ricevuto Come regalo In segno di pace Non è giusto Però Che io me lo sono Dovuto comprare Perfetto Arriviamo così Al 2017 Quando Mirko Insieme a suo fratello Simone Iniziano un percorso Per dimagrire Drasticamente Mirko pesa 220 kg E sa Che non dimagrirà Facendo una dieta O andando in palestra Così si sottopone Un intervento Di riduzione Dello stomaco Chiamato Sleeve Gastrectomy E nel giro Di poco tempo Perde Circa 85 kg Dopodichè Avendo parecchia carne In eccesso Si sottopone Anche l'addominoplastica Così da rimuovere La pelle caduta E inizia a tonificare Il girovita I due Non nascondono Al proprio pubblico Le debolezze E ben presto Chiunque Intenda affrontare Lo stesso percorso Di dimagrimento Avrà loro Come punto di riferimento Alcuni fan Addirittura Proprio grazie a loro Hanno trovato il coraggio Per iniziare Lo stesso percorso Mirko a questo punto È da soli 4 anni Su youtube È iniziato nel 2012 E siamo già Nel 2017 Quando riesce A raggiungere Il traguardo Gigantesco Di un milione Di iscritti Ora dovete sapere Che quando si raggiunge Questo traguardo Si riceve Il golden button Che sarebbe Una targa Raffigurante Il simbolo Di youtube Dorata Mirko Mirko per l'occasione Si reca a Milano E alla consegna Del golden button Trova anche Favij Favij Ciccio gamer Fino ad allora Erano gli unici Gamer italiani Con oltre un milione Di iscritti Ovviamente Non manca Sul suo canale Un video Strappa lacrime Con tanti youtuber Che si congratulano Con lui Per il traguardo Raggiunto Nel 2017 Esce anche La prima autobiografia Di Ciccio gamer Intitolata Io me e me stesso Edita Mondadori In seguito All'uscita di questo libro Ci sono stati I soliti discorsi Del tipo Ma se neanche sa scrivere Io che sono uno scrittore La Mondadori Non mi pubblica Ciccio gamer Ripete più volte Che ha voluto Scrivere lui stesso Invece di affidarsi A un ghost writer Proprio perché Nutra nei confronti Dell'oggetto libro Un grande rispetto E che voleva Che fosse qualcosa Fatto da lui Si è fatto aiutare Solo alla fine A sistemarlo Ma per il resto È tutto made in Ciccio In seguito Alla pubblicazione Del libro Sono stati organizzati Anche degli eventi Firma copie Durante i quali Ciccio incontra I fan Firma autografi Scatta qualche foto Lacrimuccia Perché giustamente L'emozione è forte Nel vedere Tutte quelle persone Lì per lui In realtà Nel 2017 È successa un'altra cosa Il Corriere della Sera Ha scritto un articolo Un articolone Col titolone Ciccio gamer Ha accumulato Un patrimonio Di un milione Centomila euro Fa vedere che Soltanto con un video Hanno fatto i calcoli Soltanto con un video Ha guadagnato Più di 7600 euro E Ciccio gamer Fa Un video A mio parere Divertentissimo Dove vestito da Shaco Poi Fa vedere Effettivamente Quanto ci ha guadagnato Vi faccio vedere Qualche spezzone Perché è troppo Esilarante Io Ogni volta che Lo rimetto Lo rido Sempre Questo punto Fa vedere Quanto ha guadagnato In realtà Da questo Singolo video In tutto il 2016 Che non sono 7600 euro Ma sono 1125 euro Una cosa del genere In più Non l'hanno mica detto Che su sti 1000 euro Ce le ho pagare le tasse Ma andiamo avanti E passiamo al 2018 Quando Mirko Ha già perso La bellezza Di 100 chili Arrivando a pesare 116 chili Nel 2018 Esce la guida Ciccio gamer 89 Presenta Trucchi e segreti Fortnite Dove chiunque Voglia capirci qualcosa Del videogame Fortnite Appunto Può trovare indicazioni Utili al caso Un giorno Ciccio gamer Sta firmando Autografi A una marea Di fan Per l'uscita Del suo nuovo libro E tra la marea Di gente C'è persino Una classe Di scuola Accompagnata Dall'insegnante Di inglese Veronica Mirko La docchia E dice Interessante Ovviamente Non può mettersi A flertare Al suo firmacopie Così Lì per lì Cerca di non Fare capire niente Dal canto suo Veronica Ha una classe Da tenere sotto controllo Ma anche lei Ha un debole Per ciccio E sa che deve fare qualcosa Per non perdere Quell'occasione Deve lanciare un amo Se vuole avere anche Una sola chance Infatti È proprio lei A fare la prima mossa I dettagli Non li sappiamo Però i due A una certa Inizieranno Una relazione Nel 2019 La coppia Si palesa Sui social E ad oggi Mirko E Veronica Stanno ancora insieme E pare Stia funzionando bene Insieme a Veronica Che su Instagram Trovate come Biglovo88 Secondo me Mirko appare Più sicuro di sé Più colto E volto al miglioramento Cioè Mentre prima Diceva Io sono così Non sono un personaggio Ed è questo Che piace al mio pubblico Nell'ultimo periodo Ho avuto come l'impressione Che cerchi invece Di apparire Sempre al meglio Non parlo dei verbi Anche perché avere Proprio gaffe Mirko non ne ha fatte mai Semmai una bella gaffe Famosa L'ha fatta Suo fratello Joker Ma non famosa Perché fa ridere O chissà cosa Quanto perché Arrivata ai Ferragnez Poteva essere Che non c'era Fedez In questa biografia Vi spiego cosa è successo Joker pubblica Un video su YouTube Dal format un po' particolare E cioè Far vedere Foto delle celebrità Senza i denti Per riderne Ok Lo so che non è divertente Ma noi raccontiamo Cos'è successo Senza moralismi E senza Farci troppe domande Dunque Joker inizia il video Dicendo Vi siete mai chiesti Come fossero i giocatori Senza i denti E noi ragazzi Una volta ci saremo chiesti Come fossero I giocatori senza denti E fa vedere foto modificate Di calciatori senza denti Fedez che nel frattempo Si trova in vacanza Pubblica delle storie Instagram dove chiede A sua moglie Chiara Ferragni Ragazzi Ragazzi Vi siete mai chiesti Come fossero gli influencer Senza denti Come fossero gli influencer Senza denti Te lo sei mai chiesto Come fossero Ma te lo sei mai chiesto No perché non si dice così Come sarebbero Ma ti sei mai chiesta Come fossero gli influencer Senza denti Che cosa vuol dire Te lo sei mai chiesto o no 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 Perché no Perché non è una domanda Che mi pongo quotidianamente Insomma La stronzata è questa Mi sono dimenticato A dire una cosa importantissima Che è successa Fine 2018 Quando Ciccio Gamer È stato bullizzato In televisione Da Mago Forest Gialla Pass Band A My Dire Talk Tra l'altro Ne ha parlato Iris Anni fa In un video Dal titolo La tv ama umiliarci Ve lo faccio vedere Avevate pensato il video Che c'è Iris Vi faccio vedere Io lo so Allora Lui è Il dietologo Di Jack La Furia Secondo me lui è Il terrore Dei ristoranti All you can eat Porto i videogiochi Al teatro Sembra un po' Faccio intrattenimento Quello che fa Scusa No Intrattenimento Quello che fa Ragazzi È diventato Tutto rosso Ma non è possibile Non è che è diventato Ciccio Grazie Grazie Ciccio Grazie Ciccio Non intendevo tanto Che Mirko Eviti Questo genere Di cose Quanto che mostri Un approccio Più maturo Ad esempio Adesso Dice di se stesso Di avere capito Che in realtà Ciccio Gamer È sempre stato Un personaggio Perché lui Ha sempre Lavorato Per il pubblico E per il bene Del canale Nel 2019 Mirko si sottopone A un altro intervento Questa volta Per farsi installare Un bypass Gastrico È molto turbato Al pensiero Di dover affrontare Questa ulteriore sfida Ma la sua forza di volontà E l'affetto Di tantissimi fan Lo incoraggiano E alla fine Riesce a superare Anche questa Che io sappia Non si è più sottoposto Ad altri interventi È stata molto dura Ma Mirko Ad oggi È riuscito a perdere 100 chili Praticamente Si è tolto Una persona di dosso Ora posso dire Una cosa Triste In quei 100 chili Secondo me C'era Una grossa parte Di Ciccio Gamer Che Mirko Cerca di non Dimenticare Perché non era Solo grasso Era il suo passato Con tutte le sue Difficoltà Ah ma non vi ho detto Una cosa importantissima Da anni Ciccio Gamer Porta su YouTube Anche ricette Nella sua rubrica In cucina con Ciccio E nel 2020 È uscito Il suo primo libro Con le ricette Di Ciccio Cos'hanno di speciale Le ricette Di Ciccio Gamer 89 Allora innanzitutto Bisogna distinguere Tra i piatti leggendari Le ricette Light e Corrotte E le ricette Classiche Rivisitate Ciccio Chiama Light e Corrotte Le ricette Stile food porn Straripanti Facendo un omaggio Al mitico Chef Meme vivente Di Tik Tok Giorgione Che saluto Che saluto E ringrazio Per i doppi sensi Che stanno facendo Da base Su cui fondare Il mio algoritmo Di Tik Tok Se gli vogliamo Se gli vogliamo trovare Un difetto Avremmo dovuto mettere Un tantinello Di meno Perché si sente Molto Però Non gli fa male Anzi Nell'insieme I piatti leggendari Invece Sono riproduzioni Scala gigantesca Di prodotti Che in natura Sono piccolini Come ad esempio Il Kinderfetto al latte O un biscotto Oreo O Oreo Insomma In cucina Con Ciccio E il terzo E per ora Ultimo libro Di Ciccio Gamer89 In realtà I libri Non sono tre Sono quattro Perché ho dimenticato Di dirvi Che nel 2019 È uscito Anche un fumetto Dal titolo Ciccio Gamer E le Olimpiadi Degli eSport Vi faccio vedere La copertina Qua O qua Arriviamo così Al 2021 Quando Ciccio Gamer89 Diviene l'ottavo Youtuber Più famoso D'Italia Su Youtube Ha superato I 3 milioni E mezzo Di iscritti Su Instagram Conta oltre Un milione E mezzo Di follower Lo ripeto Non perché Io sia ripetitivo Ma per farvi rendere conto Meglio dei numeri Ciccio Gamer89 Nel 2021 Su Youtube Ha superato I 3 milioni E mezzo Di iscritti E su Instagram Ha oltre Un milione E mezzo Di follower Da solo Fan azione Tra iscritti E follower Ha la stessa Densità Di popolazione Dell'Irlanda Gli manca solo La bandiera Col paguro È una valuta Tutta sua Pago euro Per chiedere L'indipendenza Eppure Resta umile Nel settembre 2022 Ciccio Gamer Ed Emanuele Pingo Divenuto virale Su TikTok Per il suo Vuoi farla Innamorarla Vuoi farla Innamorarla E il panino Buzz Bebon Ragazzi mi sto Mangiando i Blacks Bebon Si sentono E fanno una Collaborazione Su TikTok E quindi Biografo Ma che ce ne vota Ora vi spiego Cos'è successo Qualche giorno dopo Emanuele Pingo Sfoga sui social E la sua verità E rivela al suo pubblico Sono stato usato Da Ciccio Gamer Mi ha sfruttato Solo per la mia Popolarità Su TikTok E poi è sparito E mi ha pure tolto Il seguito Da Instagram In preda a questo Sentimento di giustizia Privata Rende pubbliche Le conversazioni Tra lui e Ciccio Gamer Per dimostrare Che lui non è pazzo E che si sono conosciuti E che Ciccio Abbia fatto finta Di essere gli amico Cioè ma tu veramente Stai facendo Tu sei una persona Perché in quel momento Ti porta visual Ma tutto a posto Tu mi hai cercato Io mi sono messo a disposizione Tu su Instagram Mi hai detto Mi fa piacere Che ci vediamo Quando voi sono qui E al finale Social mi ha dato la testa No Non è possibile È perché Se una persona Mi contatta E mi dici Quando voi sono qui Mi fa piacere di vederti E mi manda il segui Su TikTok e Instagram Per me così Si è creato un'amicizia Ci sono rimasto male È perché Io ti seguo da tanto Ma io non ho fatto come te Non te l'ho tolto il seguo Sì Tu sei libero Di seguire chi vuoi Però non accetto Il fatto che dici Che tu segui le persone Perché ti portano Contenuti Che ti interessano In quel momento È così che fai capire Che fin quando Emanuele Bicu Ti ha dato visual Ti interessava Adesso non ti interessa più Ci togliamo il seguo Tanto qui c'è una foto O no Ma poi sul fatto dell'amicizia Tu non me lo puoi venire a fare Nel discorso dell'amicizia Perché se una persona Mi contatta E mi dice Emanuele Quando vuoi sono qui Emanuele Voglio vederti Mi fa piacere Per me questa È amicizia Ragazzi Ciccio Gamer Mi ha bloccato Ti è infastidito Che ti ho fatto Il video contro È bello mio Ma non si comporta così Che fai A primo ostacolo Scappi Perché hai sbagliato E non sai cosa dire Queste sono le classiche persone Che prima ti sfruttano E poi dopo gli affangulo Sono solo a cazzi loro E che sia cose Che mi fanno nervosi Perché questi Non sono contenuti Che porto io Io qui sto per divertirmi E per far divertire Ma quando vedo Queste persone Che se ne approfittano Delle persone Vado in tilt Quindi Ciccio Gamer Rispondimi su Instagram Se hai i voi Perché forse a te È andato il mondo Dei social in testa Non a noi Che ti seguiamo Perché se una persona Mi chiede Una collaborazione Se una persona Mi chiede Di vedermi Ok Per me questa E amicizia Forse avrò sbagliato Perché io credo Molto nelle amicizie Ma così Mi hai dato la conferma Che per te Era solo per sfruttare Il momento Di Black Svebo Solo un tuo interesse E queste sono Le persone che seguiamo Persone senza palle Che sfruttano Il momento Delle persone Vabbè Dopo questo Non ne voglio parlare più Ciccio Ti auguro Un bocca al lupo per tu Ok perfetto Mi è stato eliminato Il video che ho messo Della chat Va benissimo Ma questo era Per farvi capire Che io Non ho pedi sulla lingua Voglio un chiarimento Con Ciccio Gamer Subito Ebbene sappiate Che pubblicare Conversazioni private È reato Infatti Ciccio Gamer Fa sapere Tramite social Che sporgerà Denuncia Per violazione Della privacy È diffamazione Allora Sì Lo so Pingu Ha divulgato Informazioni private La mia mail privata Ha divulgato Conversazioni private Io ho già sentito I miei avvocati Regà Io ve l'ho detto Se non siete capaci Di fare l'influencer Perché non è una cosa Per tutti Siete usciti Siete delle meteore Che non sapete neanche Che cosa significa Lasciate perdere Mi dispiame Mi ha minacciato Regà Ha fatto un macello Di roba Io L'ho bloccato Perché sinceramente A me di dare spago A queste persone Che purtroppo Cercano questo Regà Però ha divulgato Le mie informazioni personali Qualche giorno dopo Pingu pubblica un video In cui chiede Pingu Pingu Ma perché ne voglio fare Deve sempre rigato Non fare Barbe G1 Qualche giorno dopo Pingu Pubblica un video In cui chiede Pubblicamente scusa E dice che non vuole Avere problemi E denunce Per questa cosa Ciao a tutti ragazzi Faccio questo video Perché sono una persona Coerente E soprattutto Non sono una persona Cattiva Come tutti sapete C'è stato questo problema Con Ciccio Gamer Solo perché Sono una persona Che tiene molto Nelle emozioni E molto Nelle amicizie Gli ho remato contro Ovviamente Perché ho visto Degli atteggiamenti Che non mi sono piaciuti Togliendo Mi segui Ci sono rimasto Veramente male Però in questo Partibecco Che c'è stato Di scambio di video Che molti video Sono stati dimossi Ho fatto l'allora Di aver pubblicato Le email di Ciccio Inconsapevole Ragazzi L'ho fatto Era solo per far vedere Alle persone Che io Veramente lo conoscevo A Ciccio Perché molte persone Dicevano Emanuele Ma tu non lo conosci Nemmeno a Ciccio Come fa a dire Che amicizia E questo ovviamente Mi fa passare Da quella che io Credevo Che sia una ragione Dalla parte del torto Motivo per quale Siccome non mi va Di assumermi poi Sinceramente Colpe che non volevo Credo di aver sbagliato Pubblicamente Chiedo scusa A Ciccio Giustamente Per aver rilevato Informazioni Strettamente personali Spero che lui L'apprezzi Così come Lo state facendo Sicuramente voi Perché onestamente Arrivare a tutto questo A denunce Non era una mia intenzione Non ho capito Se queste scuse Siano arrivate Dopo la denuncia O se alla fine Ciccio Non lo ha denunciato Più Per queste scuse Se qualcuno di voi Ha capito meglio Questa dinamica Lo scriva nei commenti Così ci capiamo Qualcosa in più Passano due mesi E arriviamo così A qualche settimana fa Siamo nel novembre 2022 E sulle pagine Di tutti i giornali Spunta la notizia Ciccio Gamer Evade il fisco Non dichiara Un milione di euro Boom Noto youtuber Ciccio Gamer Deve versare Nelle casse dello stato 400.000 euro Di tasse Più 160.000 euro Di IVA Non pagata Che sommate Fanno la bellezza Di 560.000 euro Minchia La popolazione Si divide Tra l'indignazione Di chi pensa Evasore al rogo E chi pensa Sarà una fake news Ciccio Che nel frattempo Stava cercando i pokemon Cappotta dalla sedia E pensa Che ho fatto io Nel giro di qualche ora Senza prove Che dimostrino qualcosa E senza essere stato Contattato Dalle istituzioni competenti Sapete no Le raccomandate Le cartelle esattoriali Niente di niente Ciccio Viene paro paro Ricoperto di fango mediatico Ripeto Che questa accusa Di evasione fiscale Non gli viene Riferita direttamente Dalla finanza Come giusto che sia Ciccio Lo scopre Dai giornali Tra l'altro Di sabato Quindi con gli uffici chiusi Consulenti che non lavorano E l'impossibilità Di iniziare Da subito A capire Cosa sia successo Passa il sabato E passa la domenica Giorni durante i quali Mirko dice su instagram Oh regà Io so caduto dal pero Tasse Ne ho sempre pagate un botto Vedremo E vi tengo aggiornati Tra l'altro Mi sono accorto di una cosa E cioè Che in passato Si è spesso Lamentato pubblicamente Di pagare Un fottio di tasse Se le trovo Perché mi sembra Che li ho raccolti Gli spezzoni Ve li faccio vedere Non ho perso Il valore del soldo Perché magari ne guadagno Tanti tra virgolette Che poi arriva Le tasse italiane E ti spappolano la vita Però non l'ho perso Come se non bastasse Alcuni sponsor Lo abbandonano Già praticamente L'indomani Ciccio Gamere Viene rimosso Dalla Games Week Che sarebbe un festival Del gaming Che si svolge ogni anno E dice Addio Alla realizzazione Di un suo panino Che sarebbe stato disponibile Presso un fast food Tipo McDonald O Burger King Quale non lo sapremo mai Perché ovviamente Ciccio non ce lo dice Mirko sin da subito Pubblica delle storie Su instagram Dove cerca di far luce Sulla situazione Avete visto che sono stato Accusato Da molte testate giornalistiche Di essere un evasore fiscale Allora in questo momento Ho registrato un video Ma dove non è che dico Molto di più di quello Che vi sto dicendo In questo momento Che i miei legali Stanno guardando E vediamo Se lo posso pubblicare Io da parte mia Ho sempre pagato Tutti gli F24 Ho sempre pagato tutto Comunque poi Vediamo Vediamo Vi darò più informazioni possibili Quando le avrò anch'io Confessa le sue paure Per il fango mediatico Per una cosa che potrebbe Benissimo non essere vera E aggiunge Che qualora dovesse Esserci realmente Un buco Allora sarà stato un errore Forse del commercialista E comunque lui pagherà Tutto quello Che deve pagare Quindi qual è il problema Secondo me non si comporta così E non parla così Un evasore Poi potrei sbagliare Ciccio Gamer inoltre dice Noi youtuber Non siamo regolamentati chiaramente Non siamo riconosciuti E tutelati Da norme esplicite Che significa Che l'agenzia delle entrate Se ne fotte Che i mestieri cambino E non adegua Le impostazioni fiscali Dei mestieri Che esistono A quelli che nascono No Bisogna quindi Che il content creator Si accolli L'inquadramento fiscale Del mestiere più simile E questo crea difficoltà Nella contabilità Quindi è effettivamente Possibile Che questo eventuale Buco nelle tasse Possa essere frutto Di un errore non voluto Ma ovviamente Per saperlo Non ci resta che aspettare E tenerci aggiornati Su instagram Dove mi trovate Come debbiografo Detto questo ragazzi L'ultimissima notizia È che Ciccio Gamer 89 Sta per aprire Un secondo canale Su youtube Non sappiamo bene Per cosa lo userà Se pubblicherà Solo alcuni giochi O altro Pare essere Questo secondo canale Una specie di salvagente In caso vada male qualcosa Quindi forse ha paura Che tipo Gli chiudano il canale E in effetti Ci sta Come dargli torto Avere paura Di non chiudergli il canale Ma comunque Io direi Che possiamo fermarci qui Fatemi sapere Cosa ne pensate Delle tasse in Italia E soprattutto Perché anche voi Pensate Siano troppe E confusionarie Fatemi sapere Soprattutto cosa ne pensate Di Ciccio Gamer E gentilmente Non siate offensivi Detto ciò Vi ricordo Che potete sostenere Il canale Con un like Iscrivendovi Commentando O facendo una donazione Tramite il tasto Grazie O tramite Il link Cofi Che trovate qua sotto Io non vedo l'ora Di conoscere la verità Su Ciccio Gamer 89 Ma ancor di più Di raccontarvi La prossima biografia In programma Dove sicuramente Ci faremo anche Gli auguri di Natale Che bello Il nostro primo Natale insieme E niente che dire Per oggi è tutto E basta Ciao